La prima volta senza Luca, abbiamo parlato prima con i ragazzi un attimo e insomma per noi sarà importante comunque ricordarlo, è come se fosse qui con noi. È chiaro che non è una cosa così semplice perché comunque aveva i suoi spazi, faceva delle cose interessanti per i ragazzi e quindi sicuramente non è semplice. Però la vita deve andare avanti e dobbiamo cercare di fare bene anche per lui e soprattutto ricordare quello che lui ci ha lasciato.